Benvenuti in questo nuovo video della serie di Brawl Stars L'altra sera ho aperto una cassa e ho trovato Tara Ho trovato Pam! Non ci credo! Ma che è sta cosa? Cioè... Ho trovato Pam! Non ci credo! Vabbè! E meno male che dovevo trovarlo dentro di un tot di casse Guarda! Aspetta! Guarda! Ho trovato Pam! Non ci credo! Vabbè! Dicevo! Ho trovato Tara! Lasciamo perdere! Ho trovato Tara e adesso ci andiamo a prendere Tara Turchina! Ok! Cambiamo! Poi vi faccio vedere un po' di partite con Leon Questa qua Sto registrando! Sto registrando! Ok! Ok! Ciao! 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 Poi Questa Mi raccomando lasciate like e iscrivetevi al canale E soprattutto condividete i video Mi raccomando lasciate like and share 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 Non ci credo Ho trovato Pam Non ci credo ancora Aspettate raga Che non mi ricordo più Ok questa qui Dove gioco io Con Leon Maxato in footbrawl Sede di potere Se sentite un po' di caos Sono miei parenti Mi raccomando Andate ad ascoltare La canzone Esagono Di Jamie Tights Madman e Salmo Vi lascio il link In descrizione qua sotto Ma no C'avevano tutti la ultri Allora iti Bella raga, alla prossima!